salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale oggi ragazzi vi dirò come fare una nintendo switch su minecraft allora dovete prendere questi materiali metterli in pausa il video e vedeteli e poi dovrete prendere una struttura come questa e incominciare a fare il lavoro allora dovete scavare tre blocchi poi prendere un armor stand e metterli in questo modo poi vi shiftate e li mettete nella posa dove le mani sono ferme poi prendete dei barretti li colorate in qualunque colori volete e rimettete un altro poi prendere la testa del testo del guida e lo mettete i pistoni e poi li attivate quando avrete una schifezza è perfetta poi dovrete fare un pillar mettere il blocco dove sta diciamo la struttura aspettate che mettono il giorno e poi ragazzi prendete i pistoni e fate una e due prima l'uno e poi l'altro da ottenere questa cosa poi ragazzi dovete fare un'ultima cosa allora dovete prendere questo qua così dovrete fare una specie di pillar e poi dovrete mettere una scala storta così ed è perfetto ragazzi poi prendete un pistone e lo attivate solo per una volta e vi uscirà questo poi prendete un blocco di qua se ne mettete uno qua e uno qua e avrete la vostra bellissima nintendo switch allora ragazzi io spero che vi è piaciuto il video se vi è piaciuto lasciate like e condividetevi condividete il canale iscrivetevi e dal vostro mario è tutto vi faccio un bel balletto qual è quel balletto il mio preferito e dopo il balletto finisce il video 1 2 3 ciao raga